facciamo dolce pronti abbiamo tutto di più amido come angelico pensiero scende l'amido leggeo aroma soltanti nostri aromi tutti dolci e molto buoni ora qui non può mancare ciò che serve a lievitare ed infine dolce crema e lo zucchero vincena via via mi è piaciuta pane angel chi fa dolci il gel aiuta